Vovia! Grazie! Sei una grande persona prima di essere un grande cantante. E questo è tutto. Un applauso a Pogba. Tutto merito. Sarò il tuo piangere, quando vuoi. Il ragazzo non è solo un cantante. È un uomo, prima di tutto. Ci vuole rappresentare un pubblico più ampio. E non è scontato, e non è facile. Anche dei messaggi. Poi uno può essere d'accordo, lo hai detto tu. Può essere di disaccordo, ci sta. Il bello della democrazia è questo, insomma. Non per forza dobbiamo essere sempre tutti d'accordo su tutto. Però il messaggio che coraggiosamente lancia su un palcoscenico non è scontato. I miei piaci di scalzi sono per te. Vaggi 5. Sono per la tua carriera. Sono per il tuo coraggio. E quindi come a me mi amano in parte in questo paese, a te ti amano sul palcoscenico. Quindi grazie a tutti. Poi te dobbiamo essere diicolo. Oh... Che meraviglia, che meraviglia. Ma è che siamo fatti però. Però... E mi vergogno che crei che ripartano. Oh... Ti vorrei stavare, Ma se i bambini ripartano. Basta lavorare. No, 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 no! Ehi, 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 ehi. Ehi, 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 ehi. Ehi, 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 e Sì Sì Questa sera, assieme alla San Marino Concertente, il violino alla voce, Anna Magno. Grazie a tutti.